Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della penultima corsa di quest'oggi. Poi dietro a questi troviamo la giuba verde che è quella di Poison Boys, quella bianca che è di Yamamori, più all'esterno c'è Catherine Piper, mentre la seconda linea è formata anche da Gladia Medea, Shani Prince, San Urania e chiude in coda a tutti, Bridge Shana Sand. Cavalli che adesso vanno a percorrere la curva, posizioni che si sono abbastanza assestate, Rena Rouge dunque che guida nel gruppo, in terza posizione c'è Atomic Puppet, in quarta Catherine Piper a precedere Elidiana, poi ancora Poison Boys, Yamamori e tutto il resto del gruppo. Quando siamo già addirittura d'arrivo, Rena Rouge è in vantaggio, dunque che prova a subito andare alla rincorsa, Atomic Puppet che è ancora in quota, più al centro della pista troviamo Yamamori, poi Poison Boys e ancora più all'esterno Bridge Shana Sand, mentre va per Varchi, San Urania in questa fase. Allora dunque prova ad andare all'attacco di Rena Rouge, dal centro della pista ci provano Poison Boys e ci prova soprattutto Yamamori con Bridge Shana Sand ancora più allo steccato opposto, Rena Rouge tenta la fuga, mancano circa 150 metri al traguardo. Prova a mettersi sulle gambe Yamamori, Yamamori che a un certo punto prende il passo, Yamamori che passa definitivamente, batte Rena Rouge con al terzo dunque. Vince numero 13 dello schieramento Yamamori dunque, prima vittoria in carriera per lui, si tratta di un figlio di El Zam con in sella Alessio Satta, il training è quello di Luigi Di Dio. I colori di Fabrizio Lazzoni, 13 al primo posto, 9 al secondo, Rena Rouge al terzo dunque, 13-9-4 è l'ordine d'arrivo ufficioso della sesta corsa da Capannelle, Yamamori al totalizzatore pagava una quota di 5. Come detto, Alessio Satta in sella, da Capannelle per la sesta corsa è tutto. Grazie. 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 Grazie a tutti